Allora Elio Q, partiamo dai ricordi, perché è una partita particolare quella di Trieste, no? Sì, perché io sono molto contento perché io gioco la Triestina, perché io ho trovato bene, perché io sono molto contento perché io voglio giocare contro la Triestina. Che ricordi hai dell'esperienza in terra alla Bardal? Ah sì, io ho trovato bene la spesa perché io ho fatto bene, però quando è arrivata la Trieste, però io ho fatto tutto bellissimo, dopo l'ora ho fatto forza, però io non ho mai problemi, io ne ho faccio giocare, io ho sempre a casa, ne ho fatto niente, però io sono molto contento perché io ho venuto a Ganipoli, perché io ho trovato bene per tutti quanti, alcuni misti, anche i tifosi, perché io fai giusto, perché noi vediamo come la partita. Che insidia nasconde questa partita, Triestina Galipoli? Dove il Galipoli deve essere bravo per continuare la sua scia positiva? Sì, perché la squadra di Ganipoli è veramente una buona squadra, una buona scuola, una buona scuola, un buon educatore, perché noi fai fatto la triestina. Vediamo sabato forse, forse noi vinciamo la partita. Secondo te questo Galipoli è da play-off? Sicuramente perché noi siamo un buon educatore, tra le tante educatore di esperienza, perché noi abbiamo fatto il lavoro due mesi, però vediamo ancora due mesi, forse noi vinciamo la partita sempre. Quali sono le squadre di Serie B più pericolose? La squadra di Serie B più pericolosa è la squadra di Padova. La vedi come favore? Sì, vediamo i campionati, perché i campionati sono troppo lunghi, però vediamo. Parlaci di mister Giannini, che cosa ti sta insegnando di più? Io sento bellissimo, perché il buon educatore l'ha fatto bellissimo, parlare bene con tutti, tutti quanti, per la tifosi, però forse il mister è bravissimo. Se segna a Trieste? Sì, perché io ho rifatto il gol, perché loro hanno fatto tante cose di me, però non vinciamo la partita, ma forse. E per sabato a Trieste? A Trieste sì, perché noi veramente non siamo più forti di Trieste, secondo me non vinciamo la partita. Dal primo minuto? Sì, vediamo il primo tempo, noi abbiamo fatto 1-0-2-0, abbiamo vinto la partita 3-1, a Trieste.